Buonasera a tutti, il mio nome è Marco Beghini, sono attualmente il vicepresidente del corso di studio integrato triennale e magistrale in ingegneria meccanica e ho il compito di illustrarvi brevemente i contenuti specifici dei due corsi di laurea con un maggiore dettaglio sulla parte triennale, immagino, comunque insomma c'è qualcosa anche che riguarda la prosecuzione e quindi la laurea magistrale. Come diceva la professoressa Puccini, se volete fare delle domande, la cosa più semplice è che le mettiate nella chat, la professoressa Puccini le raccoglie e poi fa da tramite così io posso rispondere in maniera razionale, si spera un po' a tutte. Allora, diciamo avete visto nella presentazione generale la questione della scelta del corso di laurea, quindi io cercherò di essere specifico del corso di laurea in ingegneria meccanica che si colloca in una consolidata tradizione formativa, la laurea in ingegneria meccanica è diciamo classica, storica, c'è dalla fondazione della scuola e prepara, diciamo ha la vocazione di preparare un professionista che ha una solida preparazione di base, che ha delle capacità, gli sono state sviluppate delle capacità operativi che sono strettamente rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, anche diciamo locale della Toscana, ma soprattutto direi che nel panorama generale, questo vale in particolare per Pisa, ma direi che è una caratteristica di tipo universale, insomma in Italia ma anche all'estero, l'ingegnere meccanico ha una grande versatilità, cioè ha una preparazione che gli consente di essere operativo in moltissimi settori, naturalmente prevalentemente dell'area industriale, senza diciamo avere una caratteristica specifica, quindi come vedrete li troveremo protagonisti in moltissimi campi, anche che sono diciamo apparentemente per i profani non attinenti con la meccanica in quanto tale. Come la professoressa Puccini vi ha fatto vedere, non abbiamo problemi di occupabilità, anzi abbiamo il problema contrario, siamo continuamente subissati come docenti soprattutto degli ultimi anni da parte delle aziende di richieste di ingegneri meccanici, ne facciamo pochi, diciamo così rispetto a quello che richiederebbe il mondo del lavoro, questo è un peccato, però diciamo vuole anche dire che le aziende sono molto contente dei nostri prodotti, ecco questa è una cosa che ci fa piacere, quindi direi che a parte persone che decidono di cambiare professione non esistono diciamo neolaureati disoccupati, nel giro di qualche settimana trovano un'occupazione e soprattutto l'occupazione è attinente agli studi che hanno fatto, molto spesso succede che fanno la tesi in azienda, vedrete poi degli esempi e quando vengono all'esame di laurea accompagnati magari dai loro relatori o tutori aziendali hanno già l'offerta di lavoro o addirittura hanno già iniziato diciamo l'attività lavorativa nelle aziende dove svolgono la tesi. Allora cosa fa un ingegnere meccanico? Da anni io mi occupo di orientamento ed è la cosa più difficile da spiegare perché tutte queste parole per noi sono ovvie, per un neofita non vogliono dire un granché, però lo capite anche voi, una delle attività che fa l'ingegnere meccanico è progettare, parte da una necessità, da un problema di carattere economico e dal foglio bianco tira fuori diciamo dall'idea, dal suggerimento, tira fuori qualcosa che può essere costruito, usato e che ha un importante effetto economico perché altrimenti non verrebbe realizzato e impiegato. Quindi progetta, ecco questa attività noi la chiamiamo progettazione. Però si occupa anche di aspetti produttivi, cioè quando l'oggetto sta sulla carta non è ancora sul mercato, quindi c'è un lungo percorso che prevede la trasformazione di un'idea in qualcosa che è fatto di materiali, che deve essere utilizzato generalmente dalle persone, che deve avere dei requisiti di sostenibilità ambientale, deve essere riciclato, deve essere sicuro. Tutti questi aspetti attengono anche alla realizzazione, quindi alla produzione, che è un altro degli argomenti tipici in cui sono impegnati i nostri laureati. Si occupa chiaramente anche di aspetti legati alla verifica delle teorie, quindi sperimentazione collaudo, quindi verifiche di sicurezza, verifiche di affidabilità, verifiche di prestazioni, quindi aspetti relativi alla certificazione, aspetti di sicurezza, di normativa eccetera. Un argomento molto importante soprattutto nell'industria impiantistica sono gli aspetti legati al montaggio della manutenzione. Immaginate dei grossi impianti magari all'estero, prodotti diciamo, ci sono delle aziende anche in Toscana che realizzano, progettano, vendono, installano interi sistemi di produzione dell'energia elettrica, magari in mezzo al deserto. Ecco, quindi anche qui ci sono degli aspetti tecnici di carattere, di elevato diciamo contenuto tecnico che vengono svolti da ingegneri meccanici. Allora, più avanti di solito nella carriera, gli ingegneri si occupano anche di aspetti gestionali organizzativi, quindi diciamo prima sono operativi sul prodotto, poi diventano diciamo gestori di altri ingegneri, di altre persone, quindi si occupano di aspetti legati alla direzione e alla conduzione di servizi anche di elevata importanza. Immaginate che la gestione di un impianto ferroviario o di una rete ferroviaria addirittura. Alcuni si occupano anche di aspetti tecnico-commerciali, quindi la promozione, la vendita, l'acquisizione di prodotti, materie prime e prodotti e poi diciamo io ne faccio parte, alcuni ingegneri, non tantissimi, ma alcuni ingegneri meccanici si occupano anche di ricerca e sviluppo, quindi si occupano di aspetti legati diciamo al miglioramento e all'evoluzione diciamo della scienza dell'ingegneria meccanica. E infine, anche questo è un altro esempio, alcuni trovano impiego nell'ambito della formazione, quindi sia industriale, quindi per diciamo divulgare le conoscenze aziendali, sia nell'ambito delle scuole, delle università come docenti. Dal punto di vista dell'impiego, dove finiscono i nostri laureati, prevalentemente sono impiegati in aziende, quindi cominciano essendo impiegati, poi diventano quadri e se diciamo ne hanno le capacità, avanti nella carriera arrivano alla dirigenza. Però li troviamo anche nelle amministrazioni pubbliche, in particolare nei ruoli tecnici immaginate che ne so, nelle ASL oppure nei vigili del fuoco ci sono diciamo delle posizioni o ai comuni ci sono delle posizioni soprattutto legate ad aspetti della sicurezza oppure aspetti legati alle questioni ambientali o ecologiche o energetiche in cui diciamo ci sono spazi diciamo per i nostri laureati. È possibile alcuni diciamo che hanno una visione come si può dire professionistica dell'attività che realizzino degli studi, quindi magari lavorano prima in collaborazione e poi hanno lo studio personale per fare consulenza perizie e fornire servizi alle aziende o agli clienti pubblici. E infine abbiamo avuto degli esempi negli ultimi anni di ragazzi che avevano un'idea, un'idea vincente e attraverso anche sostegni che offre l'università come il ruolo di spin off si sono impegnati a diventare imprenditori, quindi hanno creato da questa idea delle vere e proprie aziende per sfruttare queste idee, questi brevetti. Cosa serve per fare tutto questo? Si parte, come diceva la professoressa Puccini, da una approfondita conoscenza della base, quindi la logica, la matematica, diciamo così, le leggi della natura. Quindi queste sono attività senza le quali non si fa innovazione, per cui è chiaro che questa viene potenziata nel corso di studio ma deve essere già presente negli studi precedenti, quindi è difficile colmare una lacuna iniziale cercando di rimanere negli ambiti delle ore, dei crediti, nei tempi previsti in maniera normale. Quindi questa è indispensabile però per un ingegnere meccanico, perché prima di cominciare, come vedrete, a parlare di oggetti di interesse dell'ingegneria meccanica devono passare almeno uno, due, almeno due anni in cui bisogna fare, diciamo, un lavaggio, come si diceva di Manzoni che lavava i panni in arno per imparare l'italiano e scrivere i promessi sposi, ecco i nostri panni in arno sono appunto matematica, fisica, chimica e materiali. E quindi le leggi fondamentali sulle quali bisogna avere le idee chiare per fare dell'innovazione. Soltanto successivamente, ecco qui vedete un esempio, non è un videogioco, questo è un vero e proprio calcolo, una simulazione dell'impatto di uno scooter che salta un dosso. Ecco, quindi soltanto successivamente, una volta che sono state chiarite questi fondamenti, è possibile sviluppare delle tematiche che sono più di carattere professionale, che passano attraverso l'uso estensivo di strumenti di simulazione, in questo caso il calcolatore, per fare dei calcoli che sono più complessi. Oppure nell'ambito produttivo si affrontano, si approfondiscono tematiche relative alla trasformazione di materiali innovativi, l'evoluzione o la creazione anche di nuovi materiali, con particolare riferimento nella produzione a tutte le applicazioni della robotica. Ecco qui vedete un classico robot industriale che viene usato per esempio per i montaggi. Serve della creatività però, in qualsiasi delle operazioni che abbiamo detto prima, ovviamente nella progettazione, ma anche in tutte le altre, serve che l'ingegnere ci metta, come si dice, del proprio, cioè qualcosa che ha a che fare anche con la passione per l'innovazione, perché è evidente che le cose che non richiedono creatività sono già state fatte e quindi se uno vuole andare avanti deve metterci del suo e le sfide, come sapete bene, soprattutto adesso in periodo di Covid, di restrizione delle risorse ambientali, economiche ed energetiche, saranno sempre più stringenti. Quindi il compito che avrà la nuova generazione di ingegneri è più gravoso di quello che ha avuto la mia, diciamo così, perché bisognerà fare di più con meno risorse. Quindi ricapitolando, da una profonda conoscenza della legge, della natura e degli aspetti diciamo matematici, mediante l'uso di aggiornati strumenti di applicazione, di simulazione, che però non sostituiscono le idee chiare e conoscendo, diciamo, le tecniche produttive e mettendoci del proprio, si può arrivare alla realizzazione di sistemi complessi e la realizzazione, la progettazione, la gestione di sistemi complessi che sono necessari, diciamo, per lo sviluppo dell'economia e, diciamo, la nostra sopravvivenza. Allora, com'è organizzato didatticamente? Allora, se questo è un anno di studio, quindi questo pallino giallo è un anno di studio, voi arrivate dalla scuola media superiore generalmente attraverso il test d'ingresso. Ora siamo in regime di Covid, quest'anno speriamo sia l'ultimo, la cosa è un pochino cambiata, ma si deve fare, diciamo, il test d'ingresso perché, come diceva la professoressa Puccini, il corso di meccanica è a numero programmato, noi abbiamo 220 posti disponibili e questi, diciamo, sono ricoperti in genere, diciamo, in condizioni normali in relazione alla valutazione che si ottiene nel test d'ingresso del CISIA. Siccome ci sono dei problemi di erogazione, di uniformità a livello nazionale, l'Ateneo in regime di Covid ha momentaneamente sostituito il criterio di ammissione con il voto di maturità. Quindi le persone devono iscriversi al bando, quindi devono partecipare a una competizione, diciamo così, e vengono selezionate in vari livelli, tranche, uno di questi è appena dopo la maturità, l'altro è a settembre, in base al voto di maturità, quindi a riempimento, ok? Quindi in condizioni normali però si fa il test d'ingresso e se il test d'ingresso non dà un risultato sufficiente, entro i 220 posti si può entrare lo stesso, però in mancanza, diciamo, di un valore minimo del voto di matematica si viene ammesso con quelli che si chiamano gli obblighi formativi aggiuntivi o OFA, che devono essere recuperati, quindi finché non si recuperano questi OFA, attraverso altri test simili, non si possono fare gli esami del primo anno. D'accordo, ora non voglio entrare nel merito di questo transitorio che spero finisca, in regime di Covid la situazione è un pochino diversa, ma la sostanza è questa. Quindi si fanno i primi tre anni teorici, dopodiché si ottiene la laurea di primo livello in meccanica. Questa laurea di primo livello consente l'accesso alla laurea magistrale, altri due anni teorici, dai quali si esce con la laurea di secondo livello o cosiddetta laurea magistrale. Altre possibilità di master sono possibili, ma per quanto riguarda i nostri allievi sono poco frequentate. Sia master di primo livello che master di secondo livello sono delle cose più corte, specialistiche in determinati settori. C'è anche chi continua, fa il terzo livello e ottiene il dottorato di ricerca. Con la laurea triennale, nella laurea triennale cosa si fa? A grandissime linee, senza entrare nel merito specifico dei programmi di corsi, durante il primo e il secondo anno c'è il potenziamento delle materie di base, quindi tanta fisica e matematica, e ci sono gli esami fondamentali dell'ingegneria meccanica, quindi quelli che pongono, diciamo, attaccandosi alle materie di base, pongono i fondamenti per la comprensione di tutto quello che è oggetti che si muovono nello spazio, che non si devono rompere. Quindi questo è quello che si fa durante il primo e il secondo anno. Il terzo anno, siccome è necessario fornire già una preparazione di tipo professionale, perché è possibile che uno studente decida di fermarsi al primo livello, è chiaro che bisogna già iniziare a intraprendere qualche applicazione, quindi il terzo anno si parla già di corsi, diciamo, di ingegneria specifici. Ok. In linea di principio è possibile usare la laurea per inserirsi nel mondo del lavoro? È una situazione che storicamente, in altri atenei è diversa, ma che storicamente i nostri studenti utilizzano pochissimo, cioè sono veramente marginali gli studenti che smettono di studiare alla fine del primo livello. Quasi tutti, diciamo, oltre il 90%, proseguono con la laurea magistrale, che da meccanica è normale, diciamo, accedere ovviamente alla continuazione, quindi a completare gli studi di meccanico con la laurea magistrale di meccanico, oppure, diciamo, una significativa parte dei nostri laureati si decide di specializzarsi nella laurea in veicoli, ci sarà una presentazione più tardi anche di questa, oppure, diciamo, soprattutto se hanno fatto l'indirizzo nucleare di ingegneria meccanica, possono anche specializzarsi nell'ingegneria nucleare. Cosa si fa nella laurea magistrale? Molto rapidamente. Allora, sono due anni e quindi si fanno qui veramente delle cose che sono molto professionalizzanti, quindi si imparano strumenti per effettuare simulazioni numeriche di varie cose, si progettano macchine e impianti, quindi ci sono esami proprio di progettazione di macchine e sistemi e impianti, impianti meccanici, si studiano e si approfondiscono il comportamento dei materiali e di componenti avanzati, si sviluppano, si approfondiscono tecniche produttive e organizzative dal punto di vista, diciamo, dell'ingegneria e della produzione. Sì, ormai la meccanica non esiste più da sola, pensate a quanta elettronica c'è su un'automobile, ma questo vale soprattutto, non solo sull'automobile, ma in tutto quello che è industriale, quindi durante la laurea magistrale è necessario, diciamo, affrontare, anche se non come un ingegnere elettronico, ma a livello, diciamo, della preparazione di base, argomenti di elettronica, di robotica, di automazione. E infine, diciamo, questa è una cosa di moda che noi abbiamo attivato subito, aspetti che riguardano l'industria 4.0, che è, diciamo, l'evoluzione smart, come si dice, no? Intelligente dei processi produttivi, quindi l'uso del computer e della rete per razionalizzare i processi, diciamo, industriali. E questo, diciamo, poi dà luogo alla laurea magistrale che determina l'inserimento di quasi tutti i nostri allievi nel mondo del lavoro. Quindi, generalmente, il percorso viene fatto completamente fino alla laurea magistrale, in modo che poi uno, diciamo, si impiega con una laurea che era l'equivalente della laurea quinquennale di prima della riforma, cioè del secolo scorso. Qualcuno fa il dottorato di ricerca. Cosa si fa nel dottorato di ricerca? Rapidissimamente, sono tre anni in cui, diciamo, si affronta un argomento specifico, quindi una tesi molto particolare di elevato livello scientifico che sfocia, oltre che nella tesi di dottorato, anche in pubblicazioni a livello internazionale, si riceve alla fine, se il percorso viene completato, il titolo di PhD, dottore di ricerca, con il quale, diciamo, si viene inseriti nel campo della ricerca e sviluppo, quindi un, oppure nel mondo universitario, in cui, per fare il quale, il dottorato di ricerca è necessario. Allora, com'è organizzata la didattica? Allora, intanto, dobbiamo dire che prima di quando questo è stato, diciamo, previsto da tutta una serie di regolamentazioni, controlli, eccetera, ministeriali, noi avevamo già iniziato a effettuare questa attività continua nell'ottica della qualità di revisione e aggiornamento del continuo dei programmi con indicazione di obiettivi contenuti, dei criteri di valutazione del profitto, eccetera. Quindi siamo molto attenti nella creazione di un percorso formativo coerente e consistente, che è partito dal momento in cui abbiamo progettato il corso di studio e abbiamo previsto che tutte le attività siano finalizzate, comprese quelle di base, all'ottenimento dell'obiettivo finale. quando mi capita, mi è capitato spesso purtroppo perché ho i capelli bianchi, di fare, diciamo, l'accoglienza alle matricole, la mia frase tipica è state attenti perché dalla prima lezione di analisi o di algebra o di geometria stiamo formando un ingegnere meccanico, quindi tutto quello che si fa serve e prima o poi verrà usato per fare delle cose applicative. Quindi, diciamo, questo richiede una collaborazione tra i docenti e un raccordo tra i programmi e tra gli insegnamenti, cosa che noi cerchiamo di mantenere attiva negli anni perché qualcuno di noi viene cambiato, diciamo, ci sono degli avvicendamenti, però tutti facciamo parte di una squadra e abbiamo la consapevolezza che si tratta di remare tutti, diciamo, nella stessa direzione e cerchiamo anche una collaborazione con gli studenti, come si può dire, ci gioviamo del fatto che loro collaborano con noi, giudicano i corsi, ci danno delle indicazioni e su questo, diciamo, siamo particolarmente attenti. Siamo anche, diciamo, strettamente collegati col mondo del lavoro, quindi stiamo molto attenti che i nostri contenuti e le nostre modalità siano di interesse perché il nostro prodotto diventerà poi, sarà valutato, no, nel momento in cui i nostri studenti andranno a lavorare nel mondo delle, scusate, nel mondo delle aziende. come facciamo a mantenere i contatti di lavoro? Ovviamente con attività di ricerca, le nostre ricerche sono sempre basate su collaborazione con le aziende, promuoviamo iniziative didattiche mirate, quindi nei nostri corsi vengono coinvolti dei testimoni alle aziendali, facciamo e promuoviamo soprattutto a livello magistrale stagio di formazione, tesi di lauree in azienda, questo è lo strumento diciamo più gettonato dai nostri allievi per fare un'esperienza aziendale e poi esercitazioni pratiche, cioè di situazioni che sono di interesse industriale, seminari e poi anche un'attività di job placement, no? Lo facciamo volentieri, cioè quella di indirizzare diciamo le aziende verso i nostri laureati. Questi sono l'esempio di alcune aziende con cui collaboriamo, negli ultimi anni abbiamo avuto delle collaborazioni intense e significative, molte del territorio ma direi anche a livello nazionale e internazionale. Allora, quali sono le raccomandazioni, no? Cioè cosa deve avere a mio avviso uno che intraprende una carriera di questo genere qui? Allora intanto buone capacità logiche e matematiche, non fate ingegneria meccanica se vi piacciono i motorini ma non vi piace la matematica perché prima di arrivare al motorino dovete risolvere tante equazioni differenziali, quindi è chiaro che non ci si arriva senza una propensione nei confronti di queste cose qui. Non si fa chiaramente matematica a se stessa, se vi piace la matematica a se stessa ci sono i corsi di laurea apposta, però noi la matematica la usiamo e pesantemente. Non bisogna avere paura ad analizzare fenomeni complessi, cioè i fenomeni dell'ingegneria sono sempre complessi, non esiste niente di semplice e quindi bisogna essere, avere questa diciamo propensione, avere senso critico e quindi mettersi in discussione. Poi, questo sembra una cosa diciamo che non c'entra niente con l'ingegneria, invece è fondamentale, non possiamo darvi capacità, spero che le abbiate acquisite, ma è fondamentale per un ingegnere essere in grado di esporre in modo chiaro, conciso e organizzato, sia in forma scritta che orale, le cose che si devono dire, perché bisogna comunicarla, questa informazione, e comunicare informazione tecnica è più difficile che comunicare informazione diciamo non tecnica, questo anche in inglese, sempre di più in inglese, quindi queste cose qui dovrebbero arrivare perlomeno alle basi da prima e noi diciamo le potenziamo, ma è chiaro che queste cose non si fanno insieme con le altre. Poi, fantasia, la capacità di affrontare problemi nuovi e poi come si diceva prima la creatività, cioè la voglia di fare cose nuove. Fondamentale l'attitudine al lavoro, quindi la passione ma anche la capacità di perseguire il risultato e l'attitudine al lavoro significa in particolare lavoro di gruppo, non esiste più Leonardo da Vinci che si mette da solo e progetta il carro armato o la macchina volante. Poi la capacità di assumersi responsabilità quasi sempre l'ingegnere firma, cosa vuol dire? Vuol dire che quello che sottoscrive poi gli può essere anzi, no, è una delle poche situazioni in cui uno risponde, risponde anche penalmente come sapete, quando succede qualcosa che non deve succedere e poi deve essere disposto ad aggiornarsi continuamente, cioè non è che l'università vi insegna tutta l'ingegneria, vi dà la canna e poi con la canna voi da pesca dovete pescare e quindi questa attitudine dovete portarvela dietro per tutta la vita professionale. Adesso in questi dieci minuti poco meno che mancano vi mostro a volo d'uccello proprio alcuni esempi di test di laurea degli ultimi anni senza entrare nel dettaglio poi questa presentazione se volete vi mandate una mail e ve la giro potrete vedere dei dettagli ma che vi danno un'idea di che cosa sa fare uno dopo che completa il percorso 3 più 2 quindi in base al tipo di tesi di laurea vedete cosa hanno fatto diciamo negli ultimi circa dieci anni i nostri laureati pensate che questi ragazzi quando avevano iniziato erano diciamo come voi avevano le vostre conoscenze dopo cinque anni cinque sei anni sono riusciti a fare queste cose qui ho riportato i nomi così non c'è dubbio quindi non si tratta di cose inventate quindi c'è il nome l'anno di laurea il titolo della tesi ecco minutillo che cosa ha fatto si è occupato di quelli che adesso stanno diventando ormai pervasivi gli accei ad alta o ad altissima resistenza per costruire diciamo le le automobili sono alla base della sicurezza durante i crash crash test gli incidenti quindi lui ha fatto una tesi su questi materiali vedete ha studiato sia gli aspetti diciamo microscopici metallurgi sia gli aspetti meccanici determinandone le proprietà e qui trovate diciamo qui che cosa fa attualmente è diventato responsabile in un'azienda che fa utensili lui era un ragazzo veniva dall'Alto Adice o dal Trentino e quindi è tornato dalle sue parti e qua fa i commenti sul corso di studio Michelangelo Di Palo e lui invece ha fatto uno studio analitico questa è la sezione di un composito vedete le fibre di carbonio la resina è possibile ha fatto uno studio teorico sulla distribuzione delle tensioni dello stress all'interno di questa lamina e poi ha fondato una società si chiama Glyx e adesso si occupa progetta e si occupa di aspetti legati all'energia rinnovabile professore sì professore scusi ci sono un paio di domande sì allora una di carattere generale se vuole gliele faccio subito va bene allora uno studente chiede per fare ricerca e sviluppo ci sono corsi particolari da frequentare no allora no nel senso che ci sono per fare ricerca e sviluppo c'è il dottorato quindi però è una cosa che quando lo studente dovrà preoccuparsi di farlo avrà le conoscenze per sapere cosa vuol dire ecco diciamo questo la ricerca e sviluppo si fa cominciando dalle materie di base approfondendo le materie di base e poi occupandosi di questioni specifiche quando uno ha la diciamo gli strumenti per poterlo fare non ci sono corsi che insegnano a fare quella cosa lì ecco no e poi relativamente al bando ci sono due domande si chiedono se frequentare scuole superiori differenti che trattano più o meno materie scientifiche il voto di maturità conta uguale ora certo certo il voto di maturità e il voto di maturità il voto di maturità e esami di stato e lo so che non è la stessa cosa però non abbiamo possibilità di distinguerli ok e invece un altro studente chiede se una persona non passa il bando come funziona quindi in che senso non passa il bando quindi allora qui c'è scritto allora fino a 220 posti vengono assegnati quindi è possibile anche che l'anno scorso per esempio non abbiamo saturato quindi abbiamo avuto un numero di iscritti inferiore a 220 quindi tutti quelli che hanno voluto iscriversi sono iscritti se viceversa ci sono più di 220 richieste si va in ordine di voto di maturità e a parità di voto di maturità il bando lo descrive molto bene conta il voto di matematica della quinta a parità ancora il voto di matematica della quarta e così via quindi è impossibile che la graduatoria produca un ex equo quindi i primi 220 entrano gli altri no ok forse ho risposto penso di sì quindi ok allora faccio finisco questa carrellata se ci riesco quindi Francesco del Medico vedete lui ha fatto la tesi al CNES a Parigi e si è occupato dello studio del lanciatore dell'Ariane quindi questa sembra una tesi aerospaziale ma in realtà questo è un oggetto che va in compressione fatto di materiale composito può rompersi e lui ha fatto uno studio vedete numerico su questo qua su questo problema Marco Danuso ecco si parlava prima del Fermilab ecco Marco Danuso ci ha fatto la tesi di laurea al Fermilab e ha studiato gli effetti elettromeccanici di alti campi magnetici li hanno dei superconduttori quindi alti campi magnetici degli acceleratori quindi tesi fatta a Chicago Frati ha fatto una tesi di micro nanorobotica vedete questi sono oggetti piccolissimi questi sono delle palline di nylon di 10 micrometri 10 millesimi di millimetro quindi un centesimo di millimetro più piccolo di un capello che vengono mosse da questo manipolatore micro robotico di cui lui ha fatto la tesi una tesi che ha fatto diciamo anche lui all'estero in Francia Giacomo Ragni ha sviluppato la frizione della Ferrari di Formula 1 a Maranello quindi si è occupato dello studio termomeccanico della frizione ai tempi d'oro quando la Ferrari andava forte sto parlando di 7-8 anni fa 10 anni fa anzi adesso lavora al nuovo Pignone Tommaso Grossi lui ha fatto la tesi in Ducati e si è occupato del calcolo delle giunzioni incollate di parti della scocca Marco Soglieri ha fatto la tesi al CERN a Ginevra e si è occupato di sollecitazioni rapidissime perché sono prodotte dall'impatto di protoni lanciati contro dei bersagli metallici da un acceleratore qui vedete la sua simulazione analisi dinamica delle oscillazioni prodotte da questo impatto e qui vedete gli effetti nell'attività sperimentale ok nostri testimonial Samuele Gorini un nostro laureato che è fondatore dell'Endotix è un'azienda che fa un endoscopio robotico quindi è un affare che autonomamente si muove all'interno dell'intestino per fare diagnosi e anche interventi chirurgici Arturo Baroncelli siamo quasi coetanei ha ricevuto tra virgolette il nobet della robotica lavora diciamo è un dirigente della Comau che è il gruppo FCA e si occupa di robotica industriale forse questo lo conoscete ha fatto anche un intervento l'anno scorso lo trovate sicuramente in rete Luca Marmorini è stato alla Ferrari nei tempi d'oro qui lo vedete con Alonso responsabile del motore adesso diciamo è un libero professionista si occupa di motori a basso impatto ambientale e poi un recentissimo successo qui vedete diciamo un gruppo tra cui sono presenti tre nostri allievi anche questi altri due sono allievi triennali che poi hanno fatto veicoli questi hanno completato il percorso di meccanica hanno fatto la tesi di laurea col progetto di Elon Musk diciamo di quello del missile che va dentro nel tunnel quindi loro si sono occupati vedete dello studio delle sospensioni attive di questo oggetto supersonico che dovrebbe volare dentro questi tubi col vuoto e poi hanno messo su una società qui vedete per rotta col presidente che gli mostra i risultati che hanno già ottenuto in questa loro società che hanno istituito chiaramente esempi di successo però come vedete attività che sono state concesse dalla loro capacità che hanno acquisito fondamentalmente durante gli studi nella nostra scuola di ingegneria ecco queste sono diciamo le indicazioni Sandro Barone l'attuale presidente del corso di studio oppure il mio indirizzo potete mandarmi una mail e se volete vi giro questa presentazione così potete vedere i dettagli e chiedermi delle ulteriori informazioni grazie a voi e buon lavoro arrivederci